Benvenuto in questo virtual tour, io sono Angelo Camilleri Addis, Mr. Affitti Brianza e ti porto in visita in un appartamento trilocale completamente arredato e completo di box doppio ad Esio in zona San Giorgio. Ingresso su doppio soggiorno, composto da una prima zona relax con postazione televisione. E una seconda zona con tavolo da pranzo e mobile soggiorno. Dal soggiorno abbiamo accesso al primo balcone comunicante con la cucina, molto ampio e luminoso. Cucina abitabile, arredata su misura, completo di elettrodomestici, frigorifero frizz, lavatrice e forno. Anche la cucina ha un'uscita sul balcone comunicante con il soggiorno. Disimpegno che conduce alla zona notte, camera da letto matrimoniale con parquet e doppia armadiatura. Con balcone con vista nella parte laterale dell'edificio. Bagno dotato di sanitari e vasca e doccia. Cameretta o studio, con parquet, ampia, dotata di librerie, letto singolo con secondo lettino estraibile. Terza esposizione e terzo balcone. All'interno dello studio troviamo anche un piccolo ripostiglio salvaspazio. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.desio.soloaffitti.it Per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo affitti, affittare con sicurezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.